Ciao a tutti ragazzi, sono i Petri Reaper e bentornati in questo nuovo episodio della serie di Minecraft. Quest'oggi ragazzi, come avrete già letto dal titolo ovviamente, andremo a costruire il portale per il Nether. Non tanto il portale, bensì l'entrata per il portale, ovvero il design che circonderà appunto la struttura di Ossidiana che ci permetterà di entrare nella dimensione infernale. Come potete vedere il portale mi sono dedicato a costruirlo io off-camera e dopo aver ovviamente ottenuto l'Ossidiana che secondo me è una delle robe più noiosi da fare su Minecraft, ma comunque il nostro portale ragazzi richiederà praticamente 6 blocchi di Ossidiana verticali e 3 blocchi di Ossidiana orizzontali. Tutte a via se volete fare il portale rettangolare le dimensioni totali saranno di un 5x8 quindi se volete farlo completamente rettangolare non è un 3x6 ma appunto è un 5x8 in quanto come potete vedere se contate anche i blocchi ed angolo aumentano un pochino le misure. Comunque ragazzi il design che andremo a utilizzare oggi per costruire il portale non è un design mio bensì è un design abbastanza popolare che gira da molto su Minecraft del quale ne esistono varie versioni a seconda delle dimensioni del portale. Quello che ho scelto di fare io per un portale di queste dimensioni è un design che non credo sia molto popolare se così si può dire comunque è un design che va improvvisato basandosi su una figura generica se così si può dire quindi cercherò comunque di fare del mio meglio per improvvisarlo su un portale di queste dimensioni che non è né troppo piccolo né troppo grande e volevo dirvi ragazzi che questo portale sarà soggetto a modifiche infatti non terremo questo design per tutto questo tempo bensì lo cambieremo tra un po'. Ho intenzione di farlo principalmente con questo design che inizieremo a fare tra poco tra l'altro ho appena cominciato a piovere e c'è il temporale non per motivi in particolare bensì per il fatto che comunque come potete notare non abbiamo ancora ottenuto quarzo e cose che si possono ottenere direttamente nel neder in quanto come potete immaginare non ci sono ancora stato. Infatti ragazzi una volta che otterremo abbastanza quarzo ho intenzione di fondere il design che andremo a costruire oggi è un design in futuro per far sì che il portale del neder sembri una mezza struttura scheletrica ma che comunque tenga dei caratteri simili appunto a quelli medieval rustici che stiamo costruendo ultimamente tra l'altro ho deciso di prendere un design di questo tipo ovvero dello stile rustico medievale e poi di fonderlo in futuro con idea mia con l'aggiunta magari di qualche blocco che dovrebbe simulare praticamente delle ossa intorno al portale per simulare l'entrata dell'inferno che come recita Dante nella Divina Commedia ha una porta sopra la quale c'è scritto praticamente lasciate ogni speranza voi che entrate. Onestamente mi sembrava un'idea abbastanza buona soprattutto considerato il fatto che il neder dovrebbe essere una rappresentazione in game dell'inferno e quindi direi che secondo me può starci a dire abbastanza bene. Tra l'altro ho deciso di metterlo in questa zona in quanto in futuro ci avremo molto spazio per lavorare in questa zona quindi sono abbastanza contento e volevo dirvi che richiederà soltanto un po' di materiali qua ovviamente ne ho presi più del solito in maniera tale da non dover andarne a prendere altri off camera ma comunque diciamo che ve ne serviranno un po' comunque per lavorare alla parte esterna del portale. Io poi cercherò anche di fare una zona tipo edificio intorno che sarà soltanto per estetica e non soltanto quindi con l'entrata del portale in sede per questo che c'è questo spazio qua dietro vuoto ma comunque diciamo che poi vedrete il design completo tra qualche episodio adesso faremo la prima parte del design e poi quando avremo abbastanza quarzo anche la seconda parte. Comunque ragazzi come cominciare per costruire questo design? Allora innanzitutto dovete basarvi ovviamente sulla struttura del vostro portale del nether se volete farlo come me vi consiglio di farlo con le stesse dimensioni ovvero con un 5x8 se volete contare anche che blocchi in alto oppure un 3x6 se contate soltanto quelli necessari. Comunque per cominciare a piazzare il portale buongiorno a lei per aggiungere un po' di texture al design del portale in generale vi converrà a prendere anche dei mattoni di pietra e della pietra normale la pietra normale e i mattoni di pietra per chiunque non lo sapesse sono ottenibili facendo cuocere la cobblestone in una fornace la quale vi darà la pietra con i quali poi potrete fare direttamente i mattoni di pietra. E per cominciare a costruire questo design vi basterà semplicemente mettere due blocchi qua iniziali e quindi contare tre blocchi a distanza praticamente da quello che abbiamo appena attestato quindi uno, due e tre se avete problema a contare con i blocchi proprio così vi consiglio di prendere una torcia che può sempre aiutare e dopodiché quindi mettere un altro blocco di pietra a questa distanza stessa roba dall'altra parte e a questo punto alternare i blocchi con delle scale di cobblestone potete utilizzare il vostro tipo di scala preferito utilizzerò quelle di cobblestone perché onestamente farle di mattoni di pietra non mi andava più e secondo me tra l'altro un pochino di alternanza ci può stare solo che bene e tra l'altro vi serviranno anche dei muretti di cobblestone comunque per fare questa parte qua vi basterà semplicemente alternare in questa maniera muretti e scale che è una cosa che tra l'altro ho fatto qualche volta per tetti e per ingressi anche nel mio mondo su console dove faccio ogni tanto le open lobby in maniera tale che esca una cosa di questo tipo ovvero un'alternanza tra i blocchi che faccia sembrare praticamente un pochino più contornata la zona d'ingresso dopodiché ragazzi giusto per continuare con i muretti dovrete metterne altri qua e dopodiché alternarne altri con le scale in maniera tale che esca una cosa di questo tipo dopodiché esattamente qua dove ci sarà l'effetto scacchiera tra i muretti potete mettere tranquillamente un blocco normale di cobblestone in maniera tale che questo blocco riunisca tutti tra i muri e che aggiunga un pochino di contorno a tutta la zona dopo che avete fatto ciò vi conviene mettere più che altro altre squale qua sotto per aggiungere alla fine il supporto per tutta la base che abbiamo appena fatto e direi che a quest'ora è arrivato il momento di utilizzare la terra per cominciare a salire e fare le parti più in alto comunque una volta che avete finito di costruire tutta la base anche qua sotto per reggere vi converrà mettere se volete fare questo esatto design delle slab di pietra praticamente sopra i muretti che abbiamo piazzato più in alto diciamo che è abbastanza facile riconoscerli in quanto appunto fino ad ora sono gli unici che abbiamo messo in questa zona e come potete vedere il nostro portale sta già prendendo forma secondo me questo è davvero un ottimo design soprattutto se avete un mondo del mio stesso stile quindi mi dispiace non essere riuscito a fare qualcosa di ultra originale io bensì di dover improvvisare qualcosa che già esiste con ciò però comunque vedrete una mia improvvisazione che ho già provato a fare in un altro mondo che secondo me ci sta davvero bene con l'aggiunta di blocchi di quarzo una volta che abbiamo comunque messo queste slab di pietra sopra questi blocchi di pietra che abbiamo piazzato proprio all'inizio dovremo mettere dei mattoni di pietra in questa maniera diciamo che non voglio utilizzare troppo la terra in maniera tale che non debba salirci troppo a questo punto mi faccio direttamente una scala qua in maniera tale che possa direttamente salire e scendere senza farmi troppi problemi e dopodiché alternati a questi blocchi qua dovrete mettere delle scale semplicemente in maniera tale che ci sia anche un pochino di curva diciamo che questa parte sarà principalmente la parte dell'arco quindi sarà la parte dell'entrata e qua in mezzo dovete lasciare uno spazio libero in maniera tale che poi potremo aggiungere un log di legno comunque sopra queste scale dovrete mettere altri due blocchi di pietra che come potete vedere sono molto molto semplici quindi direi di salire ancora un po' mettere le nostre due slab di pietra qua e dopodiché un ultimo blocco qua sopra qua sotto no vi ricordo ragazzi per il semplice fatto che dopo andremo a metterci dei log di legno arrivati a questo punto ragazzi dovemo mettere due blocchi di pietra di mattoni di pietra esattamente in questa maniera e dopodiché due scale che tra di loro saranno alternate esattamente così come potete vedere è abbastanza semplice riconoscere la zona in cui dovranno praticamente fare l'alternanza in quanto diciamo che la scala ribaltata segue il livello del muretto che abbiamo piazzato prima in questa scala ribaltata andremo a mettere un altro muretto del quale stavamo parlando esattamente in questo momento e dopodiché sopra il muretto un'altra slab di mattoni di pietra alla quale potete mettere un qualsiasi blocco a vostra scelta qua dietro in quanto si vedrà molto molto poco ma comunque diciamo che per aggiungere un pochino più di texture metterò dei mattoni di pietra in maniera tale che secondo me ci stia meglio stessa roba dall'altra parte diciamo che è tutto per aggiungere un pochino di contorno alla zona e per fare in modo che non sembri che stia ricadendo su se stesso e secondo me comunque è un dettaglio che ci può stare solo qui bene ok ragazzi cominciamo a lavorare con la legna che secondo me è una delle parti più noiosi di questa struttura per lavorare con la legna dovrete vedere dove c'è questa mezza slab che praticamente fa notare quest'altra mezza parte del blocco di pietra che abbiamo piazzato prima e dovrete mettere un blocco di legna ovvero un log di legna che semplicemente segue la parte della slab in questa maniera dovrete farlo ampio due quindi non ci saranno troppi problemi per quanto riguarda l'ampiezza e stessa roba esattamente dall'altra parte dove c'è praticamente l'ultimo muretto più interno dovrete mettere due log di legna in questa maniera che seguono la scala che abbiamo piazzato prima e qua ragazzi preparatevi perché ci saranno un po' di lavori da fare anche con la pietra a questo punto dovremo aggiungere una scala che faccia ad angolo con il blocco di ossidiana che c'è appunto del portale del nether così di suo e dopodiché in questo preciso blocco dovremo mettere un blocco di mattoni di pietra e mi raccomando se avete fatto come me fino ad ora mettetelo di mattoni di pietra perché ci sta molto meglio che un blocco di cobblestone con quello che stiamo per fare e dopodiché aggiungere un muretto di cobblestone esattamente qua e su questo blocco aggiungete una slab questa slab ragazzi diciamo che non sembrerà molto importante per alcuni potrebbe addirittura sembrare un'esagerazione ma vedere questo livello di slab un pochino più alto rispetto al muro di cobblestone ci sta molto 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 bene quindi se volete un consiglio fate così poi vabbè ovviamente siete liberi di fare come volete in quanto ognuno è libero di fare ciò che vuole su un gioco che appunto è fatto per liberare la propria immaginazione e stessa identica roba da quest'altra parte quindi se avete fatto come me fino ad ora vi conviene fare una cosa di questo tipo a questo punto ragazzi ci sarà l'ultimo dettaglio da aggiungere con la pietra ovvero due blocchi esattamente in queste zone qua laterali qua in mezzo un altro blocco però con sopra una slab in maniera tale che faccia l'effetto dell'arco del quale stavamo parlando prima arrivati a questo punto ragazzi c'è la parte più noiosa ovvero quella dove bisogna fare altri ponti di terra per lavorare al meglio con la parte superiore dell'arco ovvero quella fatta di legna io mi allungo un attimino di qua alla mia zona di lavoro se così si può dire per fare innanzitutto un altro blocco d'aggiunta qua dove c'è la scala semplicemente largo 1 perché farlo largo 2 verrebbe male visto che questo qua non è troppo largo come potete vedere la parte è un po' brutta per lavorarci comunque vi conviene fare dei saltelli in maniera tale che andrete a piazzare del log di legno così ve ne serviranno giusto fin qua poi questi qua dietro li dovremo andare a cancellare perché dovrà essere largo 2 anche come la parte sopra praticamente e dovrete mettere esattamente su questo blocco una scala rovesciata in questa maniera come potete vedere fa praticamente lo specchio di quello che c'è sotto e i blocchi extra dietro la scala dovremo andare a distruggerli quindi adesso ho da fare la stessa identica cosa in quanto deve essere un design simmetrico quindi questi blocchi li dovremo andare a distruggere la mia ascia non ce l'ho quindi perfetto e a questo punto ragazzi diciamo che faccio di nuovo quest'altra parte da solo e dopodiché vi faccio vedere il resto del design è una cosa abbastanza brutta fare lavori di questo tipo dove devo salire continuamente e scendere non come le case dove posso fare tutto su più livelli ma comunque diciamo che mi piace farvi vedere come costruisco quindi lo faccio più che volentieri rimpiango di non essermi fatto una crafting table comunque a questo punto dovrete craftarvi delle slab se non le avete già fatte come me quindi mettiamo un attimino una crafting table provvisoria in questa zona no ho preso il blocco sbagliato detesto quando succede comunque mettiamo un attimino una crafting table qua in quanto ci serviranno anche delle slab che credevo di essermi craftato onestamente evidentemente le ho lasciate o da qualche parte o semplicemente me lo sono dimenticato e comunque una volta che avrete messo appunto questi log come vi ho detto prima dovrete mettere praticamente delle scale opposte nella direzione al log in questa maniera da entrambe le parti sempre per fare il solito discorso del design simmetrico e dopodiché sopra le scale mettere una slab questo servirà per fare un effetto angolo con il blocco di abete vi consiglio di farlo di abete perché è un legno molto molto simile al log di quercia normale fare alternanza tra il log di abete e diciamo appunto il log di legna normale e poi appunto il blocco di abete che abbiamo appena piazzato comunque ragazzi una piccola cosa che ho scoperto è che se utilizzate una spada invece che il pugno per spaccare della legna si spaccherà leggermente più velocemente questo punto ragazzi stessa roba dall'altra parte come potete vedere vi ritroverete con questo caso vi basterà poi aggiungere una slab esattamente qua in mezzo e una slab sopra la slab in mezzo e adesso vi faccio anche vedere come sarà visibile dopodiché ovviamente accenderemo anche il portale per farvi vedere come sarà anche con l'effetto viola ma secondo me è davvero un design carino che soprattutto ci sta molto molto bene per un portale in questo tipo di stile comunque manca giusto una parte che mi stavo appunto dimenticando in questo istante ed è praticamente la parte del log di legno che vi avevo menzionato prima ma anche qua serviranno di nuovo delle cose che non mi sono craftato ovvero delle fence ma comunque vi basterà praticamente contare due blocchi dal centro del portale stessa roba anche dall'altra parte però non lo andrò a fare dall'altra parte perché ci servirà per una roba del design futuro e dopodiché sotto questi due blocchi piazzare praticamente due fence che sono le recinzioni in inglese per chiunque non lo sapesse con attaccate una slab diciamo che questa slab servirà per aggiungere il cartello con scritto lasciate un'esperanza a voi che entrate che vi menzionavo prima ma comunque secondo me sono un'ottima aggiunta estetica che non rovina per nulla il design e che quindi si può fare tranquillamente quindi dammi le slab me ne ho fatte anche un pochino di più vabbè adesso recupererò tutti i blocchi off camera e dobbiamo fare una cosa di questo tipo ovvero 1,2 e tac come potete vedere lì ci sarà una zona extra dove poter lavorare e all'interno della quale a questo punto metteremo il cartello con scritto lasciate ogni speranza a voi che entrate ok ho deciso di scriverlo lasciate ogni speranza a voi che entrate invece che lasciate ogni speranza a voi chi entrate perché sarebbe la versione originale comunque della Divina Commedia e a questo punto ragazzi direi che posso tranquillamente fare il sentiero off camera replicare nella parte sul retro off camera e dopodiché farvi vedere come il portale è acceso per poi dare un'occhiata a cosa c'è all'interno del nostro inferno ok ragazzi ed eccoci finalmente alla nostra entrata del portale del nether diciamo che tutti i dettagli che riguarderanno appunto la dimensione infernale quali magari qualche blocco di netherrack qua intorno blocchi di mattoni di netherrack e cose di questo tipo li aggiungerò quando andremo a fare anche la parte del design con le ossa che vi menzionavo prima comunque per ora direi che il nostro portale sarà di questo tipo e a questo punto non ci servirà altro che accenderlo come potete vedere è molto molto bello da vedere esteticamente a questo punto ti direi di dare un'occhiata a cosa c'è all'interno e ragazzi sponiamo direttamente in una fortezza tra l'altro mi sembra una buona zona in quanto come potete vedere quella parte di qua sembra essere chiusa esattamente dal muro della fortezza in sé e da questa parte invece c'è una zona di un corridoio fatto bene a portarmi dietro del legno di quercia in quanto comunque volevo dare una breve esplorazione in quanto l'esplorazione completa la faremo nel prossimo episodio o meglio non completa ma comunque della maggior parte della fortezza e a questo punto cribio direi di dare un'occhiata appunto a cosa c'è qua di fianco spero di trovare qualche fortezza bensì qualche cassa decente in maniera tale che io possa trovare anche magari delle armature per cavalli e cose di questo tipo e qua come potete vedere manca del terreno quindi ho fatto bene anche a portarmi dietro dei blocchi di cobblestone ragazzi secondo me i blocchi di cobblestone sono ottimi se volete esplorare delle fortezze del nether soprattutto perché il blocco grigio contrasta molto con quello praticamente bordo del blocco del nether che poi non so se è un bordo preciso questo ma comunque è un colore molto simile ok evita di darmi fuoco ragazzi ma comunque di qua c'è una cassa con dentro dei blocchi di ossidiana che diciamo che mi sarebbero serviti prima non adesso visto che il portale l'ho già fatto ma comunque è meglio di niente tra l'altro c'è un'altra armatura d'oro che mi potrebbe essere utile in futuro in caso di perdite totali di armature e cose di questo tipo ma comunque teniamocela buona ok di qua ho visto che c'è un'altra cassa con un altro blades però quindi diciamo che questo blades prima lo secchierei e qua soltanto ferro che comunque non mi fa per nulla schifo quindi lo prendo più che volentieri bene ragazzi sono contento della posizione del nostro portale all'interno della fortezza in quanto come potete vedere è molto coperto innanzitutto da eventuali ghast anche se da questa zona potrebbero comunque colpire e sinceramente potrebbe essere un'ottima zona per poi costruire una hub ovvero semplicemente una zona d'ingresso che potrebbe anche essere accogliente per il portale in sé quindi secondo me è davvero davvero un ottimo portale a questo punto ragazzi spero vivamente che questo design vi sia piaciuto se avete qualche consiglio per quanto riguarda appunto aggiunte da fare o magari qualche cosa in futuro da fare anche con l'effetto delle ossa mi raccomando fatemeli sapere nei commenti in quanto tendo sempre ad ascoltare alcune delle vostre idee se questo video vi è piaciuto mi raccomando fatemelo sapere con un bel mi piace che oltre a supportare me la serie supporta anche il canale non mi sono mai imposto traguardi ragazzi per un episodio ma se questo episodio raggiungerai 400 mi piace ragazzi mi dedicherò a farmare già del quarzo off camera per poi poter fare subito la parte del design aggiuntiva nel prossimo episodio con tanto di esplorazione in più a questo punto ragazzi volevo anche dirvi una piccola cosa ovvero che ho intenzione di fare di nuovo un'altra live di Undertale a breve all'interno del quale proseguiremo appunto nella serie del gioco e volevo anche dirvi ragazzi che ricomincerò a portare qualche funny moments su Call of Duty ovviamente non siete obbligati a guardarlo se preferite la serie di Minecraft ma per coloro che sono interessati volevo anche darvi queste novità a questo punto ragazzi non mi resta altro che augurarvi una buona giornata una buona serata e a questo punto sperare di rivedervi anche nel prossimo episodio ciao a tutti ragazzi